Nel complesso il Natale che non ti aspetti, che cosa invece ci ha fatto aspettare Assessore? Direi che è un progetto in grande crescita in questi anni, se ricordiamo come siamo partiti nel 2014 dove non c'era un progetto vero, oggi c'è un progetto di grande sostanza che dura un mese e che tocca veramente tutta la città. Un progetto che parte dalle persone perché noi mettiamo insieme il saper fare della città, siamo partiti se lo ricordiamo dal presepe di San Marco che trainava tante persone, oggi abbiamo tante realtà, tante associazioni che collaborano quindi devo ringraziare anche Proloco Fano Unfortune che ci ha gestito egregiamente tutto il periodo natalizio. Tre sono i grandi attrattori che comunichiamo in tutta Italia ma anche altrove e lo sono il presepe di San Marco perché ovviamente è unico e quest'anno lo sono stati come novità il San Francesco, questo magico progetto di light design che veramente ha stupito tutti e ovviamente il ritorno della palla del Perugino che anche quello è stato altrettanto importante ma poi l'Assessore alla Cultura darà i dati alla chiusura della mostra. Ecco, grazie a tutto questo, grazie a questo progetto devo dire che le presenze sono molto in crescita, parlando questi giorni ad esempio con le guide abilitate mi dicono che le presenze dei gruppi in città che vogliono visitare il presepe di San Marco e poi vogliono di conseguenza visitare la città romana sono in crescita di un 30%, sono stati segnalati 40 pullman nella città mentre negli anni precedenti in qualche modo i pullman, quindi le agenzie di viaggio non mandavano i pullman nella città di Fano. Oggi questa cosa funziona, il San Francesco ha dei dati ad esempio eccezionali, 20 giorni di apertura con 5 proiezioni per giorno, quindi un totale di 100 proiezioni, hanno portato circa 10.000 persone a vedere quel tipo di spettacolo che è stato veramente molto ricercato. L'abbiamo chiuso appunto il giorno della Befana ma l'idea è nel periodo estivo di riportarlo nella città perché è veramente unico, è un luogo fortemente suggestivo con una tecnologia che racconta la sua storia e quindi questo ne fa veramente uno spettacolo eccezionale. Ecco quindi sono numeri importanti, alberghi consorziati ci dà un dato sugli hotel e ci dice che ad esempio tutto il weekend dell'8 di dicembre è stato un weekend addirittura in overbooking per tutte le strutture della città di Fano. Non soltanto gli hotel ma i bed and breakfast, le residenze d'epoca, le case vacanza, quindi ci sono state veramente tantissime prenotazioni così come anche dal 27 al 29 anche perché abbiamo avuto qua un torneo internazionale di volley molto importante con persone arrivate da tutta Italia, è stata l'occasione anche per visitare la nostra città e così anche come nel periodo dell'ultimo dell'anno gli hotel sono stati pieni. Quindi un progetto in crescita che riesce a raccontare la nostra bella città, le nostre bellezze grazie anche alle aperture che abbiamo strutturato anche nel periodo invernale quindi a destagionalizzare che poi è la cosa che volevamo nei nostri progetti.